Dai motori al pallavolo con la presentazione dell'acquisto più significativo dell'estate di Modena Volley il palleggiatore argentino Luciano De Cecco subito nominato capitano della squadra di coach Alberto Giuliani lo sentiamo al microfono di Alessandro Trebbi insieme alla presidente di Modena Volley Giulia Gabbana Luciano, queste prime settimane a Modena come essere qua, che clima hai trovato? No, clima bello, impatto positivo, tanta voglia da fare, tante strade da fare per me è bellissimo essere qui, essere dentro questo palazzetto, questo tempio della pallavolo quindi me lo godo ogni giorno che vengo Sai che c'è sempre un'aspettativa forse più alta che in altre piazze, sul palleggiatore qui a Modena ma senti un po' questa pressione? No, per niente, sicuramente eredo una posizione molto importante dentro la pallavolo mondiale, dentro questo club sicuramente mi motivo a fare tanto altro bene come hanno fatto gli altri campioni che hanno passato qui che hanno fatto parte di questo ruolo e niente, spero essere all'altezza dell'aspettativa di tutti Come ti sembra questa squadra, i primi giorni che ti sei allenato con loro? Bene, sicuramente siamo un po' indietro magari palavolisticamente palavolisticamente perché i ragazzi hanno lavorato molto forte la parte fisica, la parte dei pesi ma c'è tanta voglia da fare, c'è tanto entusiasmo, c'è tanta voglia di imparare anche dei giocatori nuovi quindi sicuramente avremo un impatto in queste amichevole qua con Piacenza e la settimana prossima venire Giulia Gabbana, oggi la presentazione di Luciano De Cecco, forse il colpo da 90 della campagna acquisti di questa stagione Sono sicura che la sua esperienza e le sue capacità e anche il modo che abbiamo notato in queste settimane di gestire la squadra, di dare consigli, sembra molto silenzioso ma quando deve, dice la sua e con consapevolezza di quello che dice perché osserva molto in campo ci darà una grande mano per affrontare al meglio la nuova stagione e cercare di equilibrare il più possibile per essere pronte ad affrontare questo ulteriore campionato Grazie